satana approfitta delle vostre debolezze per tenervi lontano da dio e dalla confessione salve a tutti carissimi oggi voglio parlarvi di quelle che sono le insidie di satana svelate dalla veggente visca per allontanarci dalla confessione proprio in questo periodo tempo in cui maggiormente dovremmo accostarci ad essa essendo ormai vicinissimo il tempo dei segreti diciamo no e dopo quando inizierà questo tempo dei segreti sarà veramente troppo tardi per convertirsi ecco cosa ha detto a proposito la veggente visca satana tante volte approfitta di una persona che si sente indegna che si sente depressa che ha vergogna di dio questo è proprio il momento in cui satana approfitta per distoglierci da dio la madonna ci ha detto di avere questa idea fissa dio è vostro padre e non importa come tu sei non lasciate nemmeno un momento di debolezza satana a lui già gli basta per non farti incontrare col signore se hai commesso un peccato e hai litigato con qualcuno non rimanere solo ma chiama subito dio chiedigli perdono e vai avanti dopo un peccato ci mettiamo a pensare a dubitare che dio ci possa perdonare non è così noi misuriamo sempre dio dalla nostra colpa diciamo se il peccato è dio dio mi per se il peccato è piccolo dio mi perdona subito se il peccato è grave gli occorre più tempo a noi a noi in realtà servono due minuti per riconoscere di aver peccato ma al signore non occorre tempo per perdonare il signore perdona subito e voi dovete essere pronti per chiedere accettare il suo perdono e non lasciate che satana approfitti di questi momenti di spandamento di deserto chiamatelo come siete andate avanti subito davanti a dio non dovete presentarvi belli e preparati no ma andate a dio come siete così che dio possa rientrare subito nella vostra vita anche nei momenti in cui si è più peccatori proprio quando ti sembra che il signore ti ha lasciato è quello il momento di tornare presentandoti così come sei carissimi non esitiamo a convertirci a confessarci e impegnarci a vivere santamente cristianamente perché quando inizierà il tempo dei segreti sarà troppo tardi